No, siamo chiusi dentro! Allora non si può più tornare indietro. Grazie a tutti! 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 Guardate! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! e a tutti! a tutti! vi offrirò! a tutti! 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 a tutti!